Nell'ambito di un articolato piano operativo in materia di contraffazione dei marchi e della sicurezza, la Guardia di Finanza di Canicatti ha sequestrato oltre 20.000 articoli. L'etichettatura dei prodotti è disciplinata dal Codice del Consumo. La commercializzazione di prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti costituisce violazione del Codice Penale. Elevate sanzioni pecuniarie per circa 150.000 euro, oltre al sequestro amministrativo di materiale audiovisivo, capi d'abbigliamento, calzature e altro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS